Prestazione negativa a livello di squadra per la Salernitana, anche oltre l'1-0 che dice il risultato, con Giovane Cabral che invece si distingue dai compagni e a tratti dà l'impressione di giocare quasi da solo perché è l'unico a rendersi pericoloso, già nel primo tempo segna ma poi l'arbitro annulla per fuorigioco, è vivace anche nella ripresa e poi colpisce un palo clamoroso, un altro palo, pensate che addirittura è il quarto palo in cinque giornate, quindi veramente attanagliato dalla sfiga per questione di 10 centimetri non regala il pareggio alla Salernitana ma porta comunque a casa un 6,5.